Lidia, oggi c'è stata la prima lezione del corso di nonni su internet alle poste, ha trovato il suo tutor Alessandro, com'è andata? Per me è andata bene, ho capito quello che mi ha insegnato, però dubito della mia capacità di trattenere. Vi vedrete di nuovo la settimana prossima e potrà nuovamente richiedere ad Alessandro quello che avete imparato oggi. Ma oggi che cosa avete visto? Street View? Street View cosa? Che è producante, siamo andati a vedere in Brasile. Ah, perché io in Brasile ho mio nipotino, che è appena partito, mio figlio e mia nuova. E cos'è Street View quindi, signora? Street View è una via, ma view non so cosa sia. Perché? È praticamente grazie a quale, grazie a Street View si può vedere tutto qua. Siamo andati a vedere Piazza Virgiliana, la casa di sua figlia, poi siamo andati... Che effetto l'hai fatto vedere la casa? Signora, è veramente sorprendente, è per me una sorpresa continua, una cosa che mi lascia sbalordita. Tutto quello che può fare questo schermo, che per uno che come me era a digiuno totalmente, ma proprio totalmente, per me è come un bambino davanti a una cosa mai vista che rimane a bocca aperta. Questa è la mia espressione per dare un'idea di quello che mi ha sorpreso.